Sì, Tommy. Tommy, Tommy, ascoltami. È il committente. È lui il committente, non posso perdere questo lavoro. Sì, lo capisco, ma... Ok, ne parliamo domattina, ok? Ne parliamo domattina. Sì, ciao. Ehi. Fatti là. Un giornatone al lavoro, eh? Che fai? Ancora sveglia? È tardi. Oh, cavolo, che ora è? Dovresti già essere a letto. Ma è ancora oggi? Tesoro, ti prego un'onore. Non ho la forza di fare nulla. Tieni. Che cos'è? Il tuo compleanno. Ti lamentavi del tuo vecchio orologio? Così ho pensato che... Ti piace? Tesoro, è... È stupendo, ma... Credo che sia rotto. Cosa? No, 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 no. Ah, ah. Dove hai preso i soldi per questo? Droga. Vanno forte le droghe pesanti. Ah, bene. Allora puoi iniziare a aiutarmi col mutuo. Sì, ti piacerebbe. Buonanotte. Amore. Pronto? Sara, tesoro, corri a chiamare papà. Zio Tommy, che ore sono? Devo parlargli, ci sono dei... Zio Tommy, pronto? Cosa voleva dire? Papà! Papà! Ehi, sei qui? In qualche modo legate all'epidemia che ha colpito la razza. Dove ti avolo sei? Secondo le segnalazioni, le vittime dell'infezione mostrerebbero segni di crescente aggressività. Dobbiamo far vincere subito a tutti, c'è una fuga di gas. A quanto pare alle nostre spalle... Cos'è stato? Lì c'è il suo telefono. Otto chiamate senza risposta. Dove diavolo sei? Chiamami. Sto arrivando. Eccoti qui. Sara, stai bene? Sì. È entrato qualcuno? No, chi dovrebbe entrare? Non avvicinarti alle porte! Resta indietro! Papà, mi stai spaventando. Che succede? Sono i Cooper. C'è qualcosa di strano. Forse sono malati. Come malati? Oh, Dio. Jimmy! Papà! Tesoro, qui. Vieni. Jimmy! Jimmy, io avverto! Io! No! Vai! Vai! Mi hai sparato. Sì. L'ho visto stamattina. Ascoltami. Sta succedendo qualcosa di brutto. Dobbiamo andarci da qui. Mi hai capito? Sì. Tommy, dai! Dove? Dove? Guardiamolo, Harry. Hai idea di cosa stia succedendo? Ne ho una vaga idea. Porca troia. Sei coperto di santo. Noi, mio. Dobbiamo darcene. L'età della gente della città ha perso la testa. Possiamo andare via? È una specie di barassita. Mi dici che è successo? Più tardi. Ehi, Sara. Come va, piccolina? Sto bene. Ascoltiamo la radio? Sì, certo. Grazie. Niente cellulare. Niente radio. Va sempre meglio. Prima il giornalista non la finiva più. Ha detto dove andare. Ha detto... Che l'esercito sbarra l'autostrada. La quantità di trevi si è necessaria. Significa che dobbiamo andarci. Prendi la 71. Sono andato là. E quanti sono morti? Forse tanti. Hanno trovato una famiglia fossa. Già. Scusa. Mertra, com'è successo? Non ne hanno idea. Non siamo l'unica città. Dicevano che era il sud. Ora parlano della costa est e della oest. Porca troia. E quella è la fattoria di Lewis. Spero sia riuscito a scappare. Sì, certo. Siamo malati. Oh, certo che no. Come lo sai? Dicono che siano le persone in città. Noi no. Jimmy non lavorava in città. Hai ragione, è così. Siamo a posto, fidati. Vediamo che gli serve. Lo stai facendo. Guida. Ma abbiamo spazio. Tira dritto, Dobby. Fermi! Fermi! Non sai cosa ho visto. Passerà a qualcun altro. No, vediamo la vita. Non va bene. Abbiamo avuto tutti la stessa cazzo di idea. Bene. Ma si può fare il nasce indietro? Ehi, che cazzo, amico? Guardiamo! No! Sono fuggito. Tommy. Tommy! Porca troia! Cosa cazzo è successo? Cosa cazzo è successo? Hai visto? Sì, ho visto. Dannazione. Gira qui. Gira qui. Forza, andiamo. Da cosa scappano? Andiamoci via. Ci provo. Non possiamo fermarci, Tommy. Non posso passargli sopra. Torniamo indietro. Ce ne sono anche dietro. Lass. Lala. Aspetta. Vai! Adesso. Adesso. Papà. Papà! Sono qui. Forza, dammi la mano. Attenti. Che c'è? La gamba fa male. Fa male? Tanto. Dobbiamo correre! Attenzione! Tu tienici al sicuro. Su, piccola. Tienti forte! Ok. È morto! Già, è morto! Chiudi, tesoro! Non guardare, Sara. Continua a guardare. È piccola. Di qua! Ne usciremo. Indietro! Sono troppi! Da questo parte! L'ericolo! Via! È morto! Ci siamo quasi. Quasi, la piccolina. Superano il recito! Muovetevi! Trovate una via di uscita! Forza! Joel! Forza! Vai all'autostrada! Cosa? Vai! Tu hai Sara! Io li seguino! Sì, Tommy! Ti vediamo lì! Sbrigati! Ci siamo quasi! Siamo vicino! Papà! Tutti ok, piccoli. Siamo al sicuro. Al sicuro. Ehi! Ci serve aiuto! Fermi! Ti prego! È mia figlia. Penso che abbia una gamba... Fermi! Dove siete? Ok. Noi non siamo malati! Ho due civili qui sul perimetro esterno. Istruzioni? Papà, è l'unzio Tommy. Ti porto al sicuro e torno a cercarlo. Ok. Signore, c'è una ragazzina. Ma... Sì, signore. Senti, abbiamo attraversato l'inferno. Ok, ci serve... Oh, merda! Ti prego, no! Oh, no! Sara! Vi ho le mani, piccola. Lo so, piccolo, lo so. Dio! Ascolta, piccolo. Lo so che fa male. Andrà tutto bene, piccolo. Stai con me. Ok. Adesso ti alzo. Lo so, amore. So che fa male. Forza, amore. Ti prego. Lo so, piccolo. Lo so. Sara? Amore? Non farmi questo, piccolo. Non farmi questo. Forza, non farlo. No. Non, ancora. No. 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 No, no, no. Ti prego. Gotti, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Non farlo, no. No. Il numero di decessi confermati ha superato i 200. Il governatore ha dichiarato lo stato d'emergenza. Centinaia e centinaia di colpi sulle strade. Il panico si è diffuso dopo che un rapporto traverato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mostrato che i vaccini testati sono inefficaci. Con i burocrati privati del potere possiamo prendere le misure necessarie per proteggere i cittadini. Los Angeles è ora l'ultima città in cui è stata dichiarata la legge marziale. Tutti i residenti ha richiesto di fare rapporto alle zone di quarantena. I disordini proseguono da tre giorni consecutivi e le razioni invernali sono ai minimi storici. Un gruppo che si fa chiamare Le Luci ha rivendicato la paternità di entrambi gli attagli. E lo statuto pubblico richiede il ripristino di tutti i rami del governo. Nuove manifestazioni sono esplose dopo l'esecuzione di altri sei presunti membri delle Luci. Potete ancora ribellarvi con noi. Ricordate, se non perdete un buio, cercate Le Luci. Credete nelle Luci.